Sono Elena Emberti, membro del CIF, il Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino. All'interno del comitato rappresento CNA, la Confederazione Nazionale per l'artigianato per le piccole e medie imprese. Voglio parlarvi di Made in Italy, un tema molto caro a noi e alle imprese femminili che cerchiamo di rappresentare e di promuovere. Il nostro paese, l'Italia, ha una grandissima tradizione di Made in Italy, sia a livello di progettazione, di design e di produzione di prodotti. In quest'ottica il Comitato per l'imprenditoria femminile vuole promuovere e aiutare le aziende che producono Made in Italy in una fase di internazionalizzazione. Questa parola non è soltanto un'icona, un'idea. Per noi è diventato un tavolo di lavoro per cercare di trovare nuovi partner e nuovi network internazionali ed europei in cui promuovere le nostre aziende. In particolar modo l'IWAC Foundation e l'European Women Network di Eurochambre. Sono due degli enti e dei network internazionali con cui il Comitato per l'imprenditoria femminile si è relazionato nel suo lavoro per poter promuovere la commercializzazione e la creazione di nuovi contatti per tutte le aziende e tutte le imprese femminili che hanno una vocazione di Made in Italy da promuovere all'estero.